ciao a tutti da me e da pomettino molto bene sono molto emozionata perché guardate chi abbiamo qui davanti una shadow eye dell'edizione quelle un po speciali appunto perché c'è anche una cosa in più da vedere e siamo qui con mara pinkette ed è bellissima che mi ha regalato martina per il mio compleanno ma ma prima di vedere lei prima di vedere tutto voglio farvi vedere la scatola dietro che è bellissima sta per cadere appoggiati bene baby ok praticamente martina mi ha regalato questa mi ha regalato questa e mi ha regalato anche questa wow grazie mille ancora wow quando ho aperto i pacchi perché erano due sono rimasta senza parole cioè mi sono emozionata tantissimo è stato incredibile non ci credevo di averceli praticamente non una non due ma tutte e tre era un po indecisa su quale su su con chi su con chi con chi partire perché a me piace moltissimo lei però quando ho visto lei la prima volta ho detto con lei devo fare una cosa appunto quindi volevo cominciare appunto da lei però adesso rigiriamo la scatola che devo dire che è molto carina con tutte queste note musicali che si vedono veramente molto carina qua ci sono tutte e tre poi come dicevo prima qua c'è la batteria qua ci sono i vestiti qua c'è il cambio di scarpe però io non è la sono guardata troppo 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 bene per non spolierarmi troppo ma devo dire cioè guardatela guardate i capelli dove arrivano io non so se vedete i capelli dove arrivano poi mi sono appena accorta che ha un trucco eccezionale wow mi sa che c'ha su degli orecchini super fucsia non lo so non lo so è stupenda è stupenda però io direi subito di levare tutto dalla scatola perché qua ci sono tutti i riflessi strani ecco quindi adesso levo questo levo questo levo tutto facciamo soprattutto i test dei capelli perché mi sembrano molto incasinati l'hanno scatolata un po così ok allora ho tolto tutto e l'ho messo qua io ho preso lei proprio ho preso proprio la scatola non l'ho ancora toccata perché il test dei capelli lo facciamo appunto insieme allora ho buttato già giù uno stivaletto vediamo un po sono cioè guardate che colore spara flesciante è bellissimo questo colore è stupendo è questo fucsia rosa non so un pink proprio pink ok pink è lì pink infatti si chiama pink pink let pink it sembra un pokemon wow allora i capelli si sono ingellati ma sono anche tipo frisee però poi ovviamente le farò lo shampoo perché sono inguardabili a parte che sono anche abbastanza morbidi dove non c'è il gel molto bene e cerchiamo un attimo di sistemarla o finalmente non so se vado guardate qua c'è stato proprio un garbugliamento comunque sto dicendo non so se poi il frisee rimarrà o no però i capelli sono lunghissimi e non mi interessa sono bellissimi speriamo rimanga un pochino il mossino del frisee comunque adesso levo dalla scatola perché devo anche poi dirvi una cosa molto piacevole una sorpresa piacevole che ho trovato dentro a questo pacchetto che non mi aspettavo dire che è bella secondo me è troppo troppo poco è meravigliosa sto scoprendo tanto che apro tanto che ho aperto queste cose delle cose veramente incredibili wow comunque wow guardate che bella sì comunque ha su questi orecchini qua gigabnormi guardate vediamo che da un'altra parte poi li vado a levare dopo perché dobbiamo fare lo shampoo però prima di vedere lei che è meravigliosa è veramente veramente meravigliosa ti si muove il collo baby sì ok no guardatela c'è è meravigliosa questo corpo così chiaro questo color pink così bello non lo so non lo non lo so allora la piacevole sorpresa che ho trovato sono questi ovvero gli appendini voi direte ma chi si è che li ha appendini no secondo me è un bel è una bella cosa perché comunque avendo il cambio gli appendini comunque servono anche se comunque non sono abbastanza però almeno ci sono e sono uno un un po' più sullo sullo scuro e uno proprio sul fucsia questa la sigla sh e questo è scritto shadow perché nella tipo io di shadow eye ho natasha e natasha non aveva gli appendini anche qualcun'altra non aveva gli appendini ma adesso non mi ricordo molto molto carina poi guardate che bello che è lo stand guardate che fucsia quasi neon che neone che mi è piaciuto bellissimo non è glitterato né niente ma è un colore strepitoso wow molto molto bello anche vedete queste qua delle shadow eye hanno questi pallini sul come si chiama sullo stand e hanno la propria la sigla qui non hanno scritto rainbow eye come le rainbow è appunto e anche qua c'è la siglina non mi sta mettendo a fuoco un tubo mi sembra che aspetta mi sembra che sia tipo un po' un po' stortino però è molto molto carino poi che cosa arriva con lei partiamo arriva la batteria io devo dire non so se effettivamente si può suonare ok come non detto c'è sul gatto penso sia un qualcosa di conosciuto può essere qua c'è il gatto perché è un fucsia ancora stupendo e dietro invece è tutto bianco devo dire che è molto resistente sto provando a vedere se riesco a suonare no vabbè poi tanto poi la metto via perché gli accessori si sono carini però la bambola è meglio poi c'è il piedino tipo tic tic ma guardate c'è questo è per fare ginnastica per sbattere qualcosa io non le so penso che una cosa così tic 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 vabbè sono tante figuracce ma facciamo finta di niente e poi le bacchettine che ce l'è in mano le vediamo dopo che ovviamente io le stacco poi arriva queste stivali ma guardate quanto sono belli se li mette a fuoco neri con queste perline così tutto argento e poi il tacaus tutto fucsia e anche da questa parte cioè da questa parte anche l'altra ovviamente che cavolo guardate che belle poi arriva questa giacchetta che è un plastichino tanto per cambiare ok wow che bella questa cosa qua dentro ed è così oh che bello dietro con scritto shadow è tutta questa fantasia altri 57.000 plastichini prima non me ne sono accorta cioè non ci ho fatto tanto caso i vestiti per non spoilerarmi troppo molto molto piena di dettagli molto molto carina ma questa a noi gliela metto e poi invece c'è il vestitino che all'inizio pensavo fosse un top e una gonna invece tutto tutto insieme qua c'è un corpo trasparente e il vestitino è così molto molto fucsia quindi cioè meraviglioso wonderful incredible bellissimo poi abbiamo visto le cose che arrivano con lei adesso giustamente vediamo lei io direi di levare le bacchette così le vediamo che tanto non mi interessa così niente mi ostino a voler suonare ma quanto pare non suona e anche l'altra è uguale molto molto carina molto molto bene super argento ok poi allora direi di levare subito gli orecchini ok perché essendo che sono praticamente questo fucsia traslucido con i suoi capelli super pink così mi dimentico pura di rovinarli eccoli qua sono bellissimi ma non so se li metterò mettiamoli qui poi adesso gli leviamo la giacchettina sempre che io riesca forza così la vediamo subito anti sparkle fucsia con la scritta nera qui c'è ancora un po' di nero e un po' di argento qua non c'è nemmeno un titanin di oro hanno deciso di fare argento va bene poi arriva con questo vestitino che si si è una maglia vestitino molto carina molto carina ma devo dire che le cose con tipo disegnatessi qua non mi fa tanto impazzire la situation però è molto carino poi vi dico cosa aveva in mente la prima volta che ho visto lei poi ha le mani super sono un po' molline veramente sono molli wow di solito sono plastichissime unghie fucsia anche di qui bello sono un po' molline mi piace poi ha questi stivali che sono pazzeschi bellissimi meravigliosi e ieri li lascerò su anzi cercherò anche di tirare un po' su tirare lì su bene guardate che sciccherì tutti i fucsia con la scritta shadow bianca e il taccazzo nero ho detto una cosa che non dovevo dire col tacchetto nero moolto bene e poi allora qua sicuramente c'ha il bus c'ha il buco signorina staccati ti prego staccati ti prego staccati guarda che paura che mi fa fare non si stacca ma quanto cavolo è lungo sto coso non si stacca guardate se devo faticare per levare un coso non si stacca no non dimmi che devo tenere in testa no no io lo voglio lasciare in testa questo coso forza ho sentito il tic no si è praticamente spaccato in testa ok o forse non si poteva levare ho fatto il danno allora per aver fatto il danno ho fatto il danno ma secondo me si poteva levare solo che l'hanno fatto con il ciula non lo so comunque perché non fanno le cose così semplici perché intanto in testa più o meno ci mi sono girate le balle mi sono girate le balle porcaccia la miseria niente ho provato a togliere questo coso che è in testa ma non ce n'è non c'è verso di levarlo io non so però mi sembra strano che questo ha ficcato il cappello e non si poteva levare però niente niente da fare cioè ho provato anche a limarlo un po' perché l'avevo un po' scheggiato poi cercherò appunto di nasconderlo dopo averlo fatto lasciare un po' di metterci i capelli davanti non lo so questa ragazza si è fatta un tatuaggio in testa mettiamola giù così perché se no mi girano non si possono fare delle cose del genere cioè ho tolto quello di ruby ho tolto quello di river ho tolto due volte quello di ruby perché erano tutti e due con sul cappello e invece questa cioè fate una cosa più semplice perché tanto il cappello su ci sta guardate non c'è bisogno di fare i buchi in testa ficcare così dentro porcaccia la miseria mi sono girate le balle però dobbiamo continuare continuerò con le balle girate questo è il cappello che è molto carino con il gattino quindi questo non è che qualcuno ha traccio sul cappello forse quella blu mi girano adesso ok tutto nero con le orecchie con come si chiamano queste le spille appunto tutte queste borchiettine qua molto molto carino ma non ho capito questa cosa se qualcuno di voi lo sa per favore non me lo dica vabbè comunque finalmente adesso vi dico prima di guardare la faccia e tutto che cosa mi avevo in mente di fare essendo che lei ha questa carnagione qua così chiara così bella così rosa perché poi ha tutti i capelli rosa e tutto volevo farla tutta completamente rosa senza dentro il nero quindi senza questi stivali qua senza la giacchina senza questo e tutto solamente con questi stivali qua e il vestito fucsia e i capelli fucsia cioè è tutto così bello tutto così fucsia ok ok tutta questa suspense per questa cosa comunque ora guardiamole il viso la face ma anche le sopracciglia sono rosa poi ha questo trucco qua qua tutto l'ombretto tutto cuaro rosa poi ha questo liner se nero che bianco ma è bellissimo questo trucco c'è anche tutti i glitterini qui e il rossetto scintillante che riprende il colore dei capelli wow sei bellissima peccato per sto cosa qua in testa che ti devo andare per forza a cambiare cioè a nascondere perché non si può levare a quanto pare molto bene adesso andiamo a fare lo shampoo e poi l'acconcio e 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 ok allora devo dire che non sono venuti via per niente tanti capelli anzi era qualcosina proprio da tagliare alla fine molto molto bene intanto foto di rito yeah e devo dire anche che mi sembra di vedere ancora il frisè quindi molto molto bene adesso le tampono le tampono i capelli la vesto e vediamo very well molto bene eccola qui finalmente tutta fucsa è vicino pomettino eh sì pomettino ti piace sei soddisfatto eh sì direi proprio di sì perché è davvero bellissima poi adesso l'ho messa sullo stand così si vede bene guardate quanto sono lunghi i capelli praticamente superano anche lo stand incredibile wow meravigliosa wow wow capelli lunghissimi bellissimi io li ho pettinati indietro appunto per cercare di coprire qua il coso nero che un po' si vede perché ovviamente è nero e lei ha i capelli fucsia molto comunque un colore chiaro e quindi cosa ci devo fare li pettino indietro cercando di nascondere quella cosa che non doveva esserci molto molto bene devo dire che arriva con un sacco di accessori bellissimi fatti benissimo tranne il cappello ormai il cappello mi è rimasto proprio dove non si può dire comunque molto molto bene sono molto soddisfatta il look mi piace tantissimo ovviamente ringrazio ancora tantissimo Martina per questa bambola e quelle bambole meravigliose incredible very very well fatemi sapere che cosa ne pensate di Mara com'è che si chiamava i cognomi continuo a ricordarmi pink 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 cat ecco sono tra leggiò perché mi veniva in mente pinklet ma era proprio un pokemon pinklet è un nome da un pokemon infatti è pinket mi sono già dimenticata vabbè comunque vi ricordo instagram mi rincamo sono giù nell'info box pomettino saluta bravo io vi ringrazio per aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao 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 Grazie a tutti.